eccoci qua allora vai 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 oh buonasera orazio è già arrivato ma che bello ma che bello orazio orazio allora vediamo un po ora sarà buona attivare la telecamera ma meglio nemmeno buono vedi va è bello è fatto va il lavoro va io forse senza no no la telecamera ci vuole vieni ma è una telecamera ci vuole vai se buona attivarla aspetta ma io ti tocca ma non manda un avviso anche ieri ma vada vaffanculo pip pip ciao data francesca buonasera aspetta 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 allora allora c'è piccolo gabri guarda guarda quanta gente si si collega per mettere in difficoltà i big che guarda guarda la fai ma ce l'ho posta armo come se bello madonna allora che c'è scritto puma lì davanti si è il migrato a la mia figliola domattina va a prendere la macchina ha preso quella pensavo il puma allora buonasera leggi commenti te sotto un pochino leggo un pochino ma mia tanto allora intanto buonasera a tutti buonasera a corciabro buonasera soprattutto big e ai nostri moderatori io ho un gruppo di moderatori che sono sono bipolare gruppo è un moderatore zeus poi ho raptor e anima mia sono quattro moderatori professionisti di un'agenzia e loro tutelano le live perché come sai determinate cose non si possono scrivere non si possono dire e tutto quanto insomma tanto ti danno il benvenuto che ridi detto a te detto da me allora innanzitutto grazie di aver accettato questa follia io e big e net qual è il tuo nome di battesimo big e net non lo sai e lo devi di te ai nostri ascoltatori simone mi chiamo simone come me ma sognato e mi copia e un c'è nulla da fa si chiamavano un altro modo ma con voluto simone noi ci siamo conosciuti a un webinar giusto perché che insieme a lo puoi dire sia insieme alla associazione dronitalia organizza degli webinar che cosa sono sono dei momenti conviviali dove simone ed altri professionisti di questo settore della del settore buonasera mami stefi del settore della del drone per quanto riguarda in questo momento quello che ho partecipato io eravamo nella splendida cornice delle terme di sorano e organizza questi eventi ma andiamo a scoprire simone simone che quando ti sei avvicinato alla tecnologia per la prima volta che cosa hai diciamo cosa ti ha indotto a andare dentro a questo mondo ma io ho iniziato quando avevo 12 anni 13 con le prime cineprese super 8 che c'aveva il mio paro abbo lui andava a fare matrimoni con un fotografo di zona e aveva la passione della fotografia di video e me l'ha un po diciamo trasmessa e ho iniziato un po da queste cose che poi ho iniziato a fare fotografia con macchine vecchie una vecchia fuggia ovviamente mi stampavo le foto da solo il bianco e nero ci avevo insomma la camera oscura che ha rifatto la camera oscura addirittura quando ero ragazzo facevo andavo a fare foto la domenica allo stadio e poi le portavo a siena al corriere di siena per pubblicare sul giornale pensate ma pensate le stampavo gliele portavo perché non c'era la c'era la posta elettronica c'era la macchina c'era la macchina e via e via di pedina esatto ho iniziato così io e pensate che con con simone con simone ci siamo trovati un po di volte extra al webinar e e mi ha consigliato tante cose sul sul pilotaggio dei droni che anche oggi a tutt'oggi cerco cerco non ci riesco ma cerco di di metti di metterle in pratica allora simone che poi nel tempo quando è diventato big e net ho diventato big e perché che big e che big e net è nato perché aveva un piccolo blog che si chiamava big e punto net big e net però big e è un soprannome che mi ha dato un mio caro amico anche attuale amico che si faceva si andava a scuola insieme prima superiore io avevo beccato matematica inglese a settembre e arrivavo il mio bravo il motorino e la cartellina sai l'americane so se ti ricordi c'era quelle quelle cartelline tipo degli americani quelle di stoffa verde no ah sì 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 non sono ragazzi no e io arrivavo il motorino perché andava a fare ripetizione no e da lì si era visto di che studia sto big e non è big e non è big e big e big e non è perché spiega che cosa vuol dire big e non è in toscano perché che cosa vuol dire non dice dice ma mi vorrei mi raccontare che vai a studiare una sera d'estate mentre noi siamo fuori a divertirsi è impossibile no che se ma un big e l'one è una persona che non scansa lavoro insomma non scansa fatica e da lì è nato big e e tutti mi conoscono come big e da lì big net per il motivo che ti ho spiegato perfetto poi c'è mister baguette che dice come mio soprannome perché lui fa il fornaio no perché c'ha la baguette capito allora ascolta big e nei tuoi nei tuoi video che si trovano anche sul sul il canale rosso insomma sul social rosso perché non si può di no non si può di non si può di più nulla di no no o non sembra successo a me è qui questo posto vi si sa vada cioè ti propongano immagini di guerra di continuo geni e mori no peggio di questo non ce n'è io ho fatto un tic tottino bellino dove raccontavo aveva un fregato la mia mamma gli arrivava un sms dove c'era scritto mamma ho perso il cellulare questo è il mio numero scrivimi su whatsapp però io ho raccontato questa storia tombi fai fregato perché qui e vi rubano l'identità sordino e ho messo uno scritto di questo messaggio o il numero di questi presenti no ma c'ho l'avviso l'hanno bloccato mi hanno avvisato e mi hanno detto se ne mette un altro ti si butta fuori ah però quelli che mettete di guerra quelli vanno bene ma sai purtroppo allora si sta evolvendo no questa piattaforma e sicuramente diciamo ancora ancora dei grossi dei grossi bug comunque lui lo trovate sul tubo il tubo si può dire sul tubo come big net e lì porta tantissimi contenuti uno degli ultimi a chi paga non succede niente bravo uno degli ultimi che ho che ho visto che mi è capitato fra le mani anche qui è quello di tutti questi numeri che stanno chiamando anche senza poi nemmeno rispondere certo quindi che cosa che consiglio ti senti di dare a a chi riceve queste telefonate a una cosa più più bellina che stavo per pubblicarlo uno su tito che mi sono fermato perché mi è successo proprio questa cosa ho ripreso una telefonata di un numero un 347 bene rispondo dice lei è simone sì io la chiamo per l'utenza in via dice lei è un vecchio nostro oriente ma scusi ma lei c'è io sono del mai sentiti io non mai sentita con lei non ci ho mai avuto a che fare no guardi lei si sbaglia scordi guardi facciamo una cosa io riattacco e la richiamo a questo numero e mi dice l'esistente cioè no ma questo è un numero di uscita no no questo è un numero io leggo sul cellulare ed ho sapere che lei perché se la voglio richiamare lei mi deve rispondere se lei sia un centralino fa cava un centralino giusto io mentre riprendevo dunque non mi interessa la salute ora la richiamo riattacco faccio il numero in diretta il numero chiamato è inesistente ma allora io dico questo oggi oggi la tecnologia sta sta volando in maniera impressionante no big e non riusciamo veramente a stare dietro a all'evoluzione soprattutto ma non noi allora noi alla tanti ci dicono boomer no nel senso che siamo però noi abbiamo vissuto big e io perlomeno dal buonasera stefano dal commodore 64 dal vic 20 quindi noi fondamentalmente siamo se me lo permetti oppure c'è pure di no siamo più evoluti di questi ragazzi ma scusa ti posso interrompere io ora so su tik tok no pubblero che l'ho registrato perché questa storia di boomer è bellina no e sposo quello sta dicendo se proprio io ho fatto un tik tok di un minuto dove dico sono boomer bene sono boomer ma quello è se passavano io se ha detto tv 20 e cioè noi si è iniziato che non ci usava whatsapp per scambiarsi una cosa si mandava una lettera cioè noi non ci sapevi cloud ci sapeva una pila di fogli cioè nel senso no e noi questa questa escalation si è vissuta dall'inizio ad ora e io su queste escalation ci sono montato sopra a cavallo e la cavalco più di tanti giovani per cui cioè nel senso tanti come noi sono si sono persi noi che si usa la tecnologia ci si diverte ci siamo montati sopra e si è vissuta tutta sì ma infatti se te dici allora a me se mi dai un giradischi io lo so fa partire un mangianastri uno walkman io lo so fa partire un giovane oggi non sa nemmeno che è quindi voglio dire noi che siamo tecno a noi che siamo diciamo cresciuti con la tecnologia cioè ma proprio veramente cioè quando io avevo il vic 20 avevo 15 anni cioè ero un 15enne di oggi con la tecnologia all'epoca di una di un era impressionante cioè io mi ricordo sempre le prime stringhe che si scrivevano 10 den print benvenuto chiusa pare sotto 20 goto 10 sotto invio insomma 30 ro run poi siamo passati poi siamo passati ai primi olivetti al primo ms dos linguaggio sms dos poi primo windows 3.1 e su su io ho visto di zeus dice il linguaggio html e quello è venuto dopo però dopo fine 90 ma infatti noi che abbiamo avuto la fortuna visual c più più te lo ricordi il lo spiga il programma di il linguaggio di programmazione poi non stava il vic 20 era chiuso commodore 64 era più aperto era più programmabile di ordino sì sì poi lo spectrum vedi sa io ho avuto i primi le prime console io ho avuto l'in television quella voi pad legati che c'era che c'era i bastoncini io credo da roba e se se dici non sanno manco cosa sono sì sabri è vero ma per esempio l'amica bravo io aspettavo il mio babbo che tornava dalla miniera per giocare a tennis con l'in television con quello pad sì e ora e ora mi metto io io ora mi metto il meta queste tre vuole un piazzale gioco un altro davvero è vero è vero cioè ma io lo può per cui te l'ho detto ho fatto tutti i passaggi io ho iniziato da quello e ora e ora ci gioco a tennis con il meta west perché sono uno smanetta anche il meta west ma vedi qual è il discorso noi fondamentalmente si è avuto visual basic con gli algoritmi latari ma ti ricordi allora io vi dico questo e big e me lo conferma con il commodore 64 che era già l'evoluzione del vic 20 per caricare un gioco per caricare un gioco anche 40 minuti sì sì 40 minuti e poi quando ti dava il guru meditation te lo ricordi la scelta blu guru meditazione ascolta e ti dirò un'altra cosa quando io ho iniziato con internet nel 93 92 con un modem a 14k che si attaccava al telefono che faceva il rumorino tutto 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 e ti tenevi la linea occupata perché e mi ricordo benissimo la prima canzone mp3 che ho scaricato che c'era questi non erano siti era tipo dei sistemi particolari mi ricordo scaricare una canzone d'angoon e per scaricare 3 mega di canzone tipo spessi più di bolletta telefonica di canzone andare a comprare lpi al negozio allora c'è dottor stefano verona bighe che sarà ospite mio te lo dico anche a te perché secondo me è una cosa che a te interesserà lui è uno psicologo delle dipendenze delle dipendenze da social anche quindi sarà con noi il 4 di aprile mi farebbe piacere simone oggi mancano le basi i nativi digitali conoscono la tecnologia senza sapere perché bella questa ha ragione il nome vedi è il nome è simone guarda o simone io la rione lui che l'ha copiato da me e te che l'ha copiato dal bighe no ma poi la cosa la cosa bella della ora poi andremo a parlare anche andremo a parlare anche dei droni no il nostro il nostro mondo però la cosa bella della tecnologia di oggi è che non sanno sfruttare giovani perché non la sanno sfruttare perché magari saranno bravi più di noi a fare un tiktok andare virali a però fondamentalmente loro hanno in mano una tecnologia che ti apre le porte del mondo ma no nel mondo di tiktok ma nel mondo lavorativo imprenditoriale di crescita personale noi fuffa guru come ci sono in giro è però a te non ti fanno interviste ma non lo so la reina non non so ora gliela fai io ea fate c'è che bisogna vedere se c'è che noi i e b che ci si vanno a nozze perché si fa cioè lui fa montaggi video io cerco di fare montaggi video però insomma e poi ti dicevo e naturalmente nel nel tuo evolvere della dice a me nel tuo evolvere della del tuo percorso tecnologico hai incontrato nella tua strada diciamo questa regista di tv network buono buono l'ho intervisto se vuole essere intervistato volentieri hai incontrato diciamo il mondo dei droni no da quanto da che anni ha iniziato con i droni era iniziato nel 2012 2012 quindi dodici anni fa poi spiegaci un po come come se come hai scoperto i droni noi aspetta noi abbiamo le basi vecchie e quelle nove che i giovani i giovani non hanno è vero sì ma è semplicemente ho iniziato semplicemente così mi soppreso un piccolo dronetto non sai ma un cx 20 insomma un saima un dronetto del cavolo che era leggero tipo 100 grammi aveva la camerina sotto dove ci stava una micro sd erano le prime dentro non era stabilizzato non aveva gps era un drone a discoteca come ne chiamo io però niente ho iniziato a mandarlo su a quei tempi era sempre vivo il mio babbo e ora purtroppo non è più con noi e lui ricarbava questa roba fuori di maniera e si è iniziato un po a fare questi voli e si è iniziato a vedere da lassù un mondo totalmente diverso cioè e ci sembrava di far chissà che perché 12 anni fa va sicuro che lo usavano poi no ma erano erano roba e non si poteva vedere erano inguardabili cioè nel senso non stabilizzate movimento e droni erano quasi inguidabili perché cioè non avevano un controllo assoluto come c'hanno ora che hanno la stabilizzazione stanno fermi c'hanno l'overing e gps lì non c'era niente era peggio guidare un fbv se qualcuno insomma per cui io ho iniziato così costava tipo nemmeno po perché 70 80 euro un dronetto così costava e lo compravi nei siti dei siti cinesi c'era già lì express insomma e mi pare c'era ben good già a quei tempi e e non perse due o tre ovviamente no ma ho iniziato un po a poi ho fatto la prima spesa mi sono preso un un drone un po più un po più importante più pesa quei tempi c'era patentini attestati assurazioni non c'era niente era tutto libero era tutto gozoviglioso volavi dove ti pareva non c'era cioè nella regolamenta o nulla perché saranno poi mi sono preso questo drone un po più grosso c'aveva la possibilità di attaccarci sotto la la go pro camera aveva un gps pesava tipo intorno a chilo e mezzo e ho iniziavola con quello ma era c'è un telecomandone enorme già meglio però anche quello una volta personale era nel cascato insomma ho però hai tribolato aspetta e simo c'è c'è una notizia una sì una domanda di notizie bestiali e notizie bestiali sarà mia ospite il aspetta te lo dico il aiuto sei un boom il 18 il 18 aprile dice con chi lavora big e net mi sono persa all'inizio colori collabori io c'ho un canale che cosa rosso il tubo del tubo niente mi diverto a fare a fare condivisioni online di tecnologia e ultimamente insomma quasi 60 mila iscritti e canale ma diciamo che è uno dei canali più grandi su droni tecniche a livello nazionale su droni e con il tempo poi ho iniziato collaborazioni con luca brahali che è un fotografo registra rai che facciamo degli corsi in presenza toscana e ora saremo a brisichella in emilia romagna però insomma di solito si fa in toscana giornate all'insegna proprio di imparare a volare editing video insomma in posti si è volato a firenze in una terrazza sul domo sulla torre a san gimignano insomma a proposito simo c'è dottor stefano verona no abbiamo volato abbiamo fatto ci ti chiede ci sono delle leggi in vigore per dove possono andare i droni per esempio su una villa privata ma è e qui si ritorna la c'è la villa privata allora quando uno vola con un drone deve innanzitutto rispettare le sue possibilità che ha di volare in che senso parlando velocemente per chi non conosce la materia è droni sotto 250 grammi non serve il patentino serve una piccola assicurazione una registrazione a un portale portale che si chiama the flight dove si visualizza le aree dove si può volare e ci si registra operatori che hanno un codicino l'attacchi sui droni farà piccola situazione voli se c'è un drone però che pesa da 250 grammi a 20 hili hai bisogno di un attestato prende un attestato che si prende su enac si chiama attestato di volo a 1 a 3 e ti serve quello per volare ovviamente metti sempre e per vedere dove si vola si consulta questo di flight che è un portale che ci fa vedere dove si può volare poi parlando di villa si entra in un discorso privacy ma attenzione bisogna fare una distinzione perché il proprietario della villa è proprio di terreno non del dell'area della sopra di lui per cui sicuramente non si deve ledergli la privacy no bisogna stare almeno a un'altezza adeguata non si deve fare riprese dove si vedono ovviamente targhe insomma dati sensibili e cose particolari ma soprattutto quando quando è che si fa la violazione quando si va a condividere io faccio un video di uno sulla sua villa dove lo vedo in primo piano che è mezzo nudo lo riconosco riconosco la targa della macchina e lo condivido su tik tok ecco a quel punto lì ledo la sua privacy e a quel punto lì e faccio una cosa e non devo fa ma se io volo su una villa dove a un'altezza adeguata senza condividere nulla prendendomi le mie cose facendo delle riprese e di flight comunque la norma me lo consente beh lo posso fare perché no questo è questo è un principio perché vale io mi sono fatto uscita pubblicarlo un video sugli occhiali sui meta non so se li conoscete i meta glasses questo è un oggettino che a te ti servirebbe per esempio vedi bob no si conosci no si lo conosco non so quelli che gli occhiali della raiban fatti in collaborazione con meta non è che voglio pubblicità nessuna ci mancherebbe che scattano foto fanno video ti fanno da auricolare tutti il resto a parte mi si sono bloccai oggi sono però stato discorso ecco ho fatto un video dove racconto le mie prove quello ho fatto un mese ce l'ho mi sono comprati e ho aspettato un mese per condividere e in cui contenuto affrontò proprio il problema privacy certo perché lì si va proprio i cellulari la gente rompe droni vedi droni no ma i problemi i cellulari sono i primi strumenti per violare la privacy cioè si vede della roba su questi social di condivisione si riconosce persone gente di targhe per cui non è tanto l'occhiale drone il telefono è il contesto con cui si usa sti infatti ti voglio raccontare una cosa che mi è successa a talamone che te conosci benissimo siamo vicini io stavo volando su talamone c'è 60 metri e mi ero messo in alto sì non ero messo in alto perché ha visto avendo il mini 4 pro che arriva fino a 120 metri però da dove sei te quindi da dove si stacca dal suolo e ho detto vado più in alto ero vicino a un complesso diciamo residenziale però io stavo volando a vista sul porto sul morto cioè il io avevo il porto di fronte a me e volavo dritto esce un signore dalla villa e mi fa a ma lei sta violando la mia privacy lei sta volando sopra casa mia nodio guardi il drone lì guardi lo vede perché sa perché giustamente noi bisogna volare a vista non si può volare con lo schermo del del radiocomando lo schermo ci serve per vedere l'inclinazione per fare la foto meglio per fare il video meglio ma lo devi vedere lo devi vedere ah no io chiamo carabinieri dico guardi chiamano chiami chi vuole io tanto metto in overing cioè in volo statico fermo il drone e guardo il cognome sul campanello con il telefonino vado su instagram cerco il cognome del campanello e trovo i due figli un maschio e una femmina io guardo i profili instagram insomma i g li vedo bene mi fermo arrivano carabinieri a mallea dico guardi io non atterro finisco la missione perché io sono nella regola guardi il telecomando sono a 38 metri mi posso alzare fino a 60 finisco la missione torno quando sono rientrato sono atterrato a lui faceva le foto alla mia video guardi dottore questo è suo figlio la moto la targa della macchina il bagno questa è sua figlia il reggiseno nella spiaggia chi è che sta violando la privacy della sua famiglia io o su figlioli ha preso la macchina e se n'è andata che ma certo ma voglio dire buonasera rosa blu il problema però è che è un amato carabinieri no ma i carabinieri non sanno niente di sta roba no no non lo sanno video io mi è successo un fatto ero in piazza del campo a siena zona non volabile c'è carcere tutto il resto va bene ero insieme a una persona che doveva fare un servizio per una televisione e mi aveva chiesto di andare con lui a fare questa cosa dice se vieni aveva da fare una clip particolare mi chiedeva un aiuto va bene sono andato luce aveva tutto è autorizzazione dell'enac comunicazione pecche alla polizia municipale insomma al comune aveva già parlato il carcere era tutto a posto va bene mentre eravamo lì io ero già atterrato qua il 3 perché ero qua il 3 perché qua il 3 avendo la 2 potevo volare in quel contesto lui stava ancora volando va bene arriva un signore con una cartellina sotto braccio comune di siena e fa dice cosa state facendo si sta volando il drone si no c'è ma lo sapete qui un'area tutti i soliti discorsi no ma è un'area siamo autorizzati a volare e dice ma voi l'autorizzazione per la data autorizzazione è questa enac tm05 tutto dice c'avevi il notam c'avevi il nota non ci serveva nota mi serve un autorizzazione al volo non erano e fa dice era so però bene però dice voi state 7 sul qui è proprietà di comune insomma è comunale guardi allora quello è che è lassù il comune c'entra niente lo s'appoggia in terra se vuole fate il comune fa un ordinanza di istituisce un divieto di volo per un periodo per qualunque cosa e non ci si vola però è dice sì però voi dovresti comunicare anche al comune perché ci avevo tutti i fogli avevo io ti fa guardi il comune ce l'ha perché al comandante della polizia municipale gli è stata mandata una pec di informazione che i giorni alle ore sa questo ha detto a dice sono il comandante la poesia municipale e allora e allora allora non l'ho vista avete ragione scusate ando via ma allora guarda è come come ha visto a civita di bagno regio no c'è non si può volare perché c'è un notam attivo fino a sabato a mezzogiorno non si può volare poi ora ora fino a sabato a mezzogiorno poi da sabato a mezzogiorno fino a domenica a mezzanotte naturalmente di notte non si può volare insomma vabbè fino a domenica non si può volare si può volare come perché non si può volare no nel senso ora io ti dico il mini 4 ora io ti hanno s'accendere luci e stimolato i mavic 3 col mavic 3c ne posso volare però diciamo che c'è l'autorizzazione è successo anche a me io sono arrivato lì di sabato pomeriggio volevo fare no volevo ho fatto non mi interessa le riprese nel tramonto su civita di bagno regio c'avevo la capannella di vigili carabinieri ho detto chiamate anche la polizia e il cellulare e mi portare via io non atterro forse voi ne avete capito che cosa sto facendo no lei sta vola io sto volando posso volare che posso perché posso io c'ho assicurazione c'ho quel code posso volare ma poi c'avevo il qr code me lo son messo anche big e sul radiocomando ma non importa non importa però gli ho detto scannerizzate guardate l'assicurazione poi ciò ha visto quelle tesserine plastifiate si si ho fatto anche la tesserina plastifiata gli ho dato tutto o ma lo sai mezz'ora a dirmi scenda 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 le batterie chuck sul mini 4 pro all'incirca 30 30 cicli addio da 30 minuti lo fai da addio ora l'ultimo aggiornamento sarebbe a 26 27 a e l'ultimo aggiornamento non ho fatto sì sì ma non ti dura più nulla idrone dice simo apri dice andare contro nonostante le persone la persona tutto a tutte le autorizzazioni è davvero assurdo e ma noi tutti i giorni ci capita è vero o no di che purtroppo è così purtroppo è così allora per chi perché ho visto prima scorrendo no per chi volesse iniziare che cosa consigli nel mondo dei droni partire da partire da un mini 2 se mini 2 se dj ai mini 2s mini 2 se seguo spende un po meno che ci sarebbe anche i potenzi che 4k è bellino riprende bene però ha un po più difficoltà nel segnale per cui uno inizia vuole essere più sicuro avere un segnale buono però ecco se uno ha già iniziato e già un po di il potenzi che la valita vita mi piace di più mentre se uno vuole iniziare si prende velo ciao anche un radiocomandino così che sceletti cellulare vero un sinc 2 segnale perfetto qualità video alla 2 e 7 ovviamente perché la camera è quella termini due però si diverte vola bene e porta a casa bella roba ma il mini 2 se gioco una sera nei vertiti non ha il rilevamento ostacoli vero niente niente il primo drone mini con rilevamento degli ostacoli è il mini 3 pro mini 3 pro quindi quelli lì non hanno che ho visto ora su di già e ho stati voluti torna 600 euro 550 e poi ti volevo chiedere big e e poi diciamo allora intanto conta anche il peso giusto del drone però il fatto che abbia prego ciak il fatto che abbia una camera a bordo dimmi se sbaglio comporta il fare l'assicurazione obbligatoria è vera questa cosa o no l'assicurazione obbligatoria serve praticamente sì sempre in ogni caso cioè te l'assicurazione quando usi un drone anche se è un drone un drone del cavolo tipo che ne so tipo questo che c'è anche te che è l'hover hai bisogno comunque della spesa 125 grammi pesa ma anche questo ma è mi dice ciak ma non per la camera allora allora loro diano i droni che hanno una camera devono comunque essere assicurati capito e i droni e fanno ora su tutti una camera brutta bella e sia ma ma sono droni comunque che ti necessitano sempre di un'assicurazione ovviamente per questi sono droni che se ti casca in terra cioè ottivi ti va addosso a uno non succede nulla io 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 nel senso ho dei video nel canale uno interessante molti non hanno capito anzi la gente li garba non ascoltare ma pensare basta il suo cervello no io avevo portato ma aveva segnalato un mio iscritto un fatto di un drone radio sulla macchina aveva rotto il il 18 davanti della macchina no io mi aveva mandato il link l'avevo visto parte ma era venuto un po il dubbio perché il drone non si disfacevano quando accadeva però avevo volto l'occasione per fare un video dicendo siccome tanti prendono droni di un un chilo e un chilo e mezzo e volano senza ci fosse ci siano domani senza preoccuparsi di nulla ma veramente di nulla e senza pensare che un drone può avere un urto con un uccello può avere un guasto a un motore quando cade a una velocità importante anche da 70 80 metri può far danni ma può fare anche di male certo certo per cui questo è il vero problema no ovviamente poi si fa tutto si fa tutto un inquadramento generale e ci si mette dentro anche questa robetta lì perché c'è una stessa strana no so uguali capito di però certo certo il problema poi alla fine è che se prendi un drone e vola quel drone lì lo deve comunque registrare che non il drone ti registri te e e ci attacchi tu col cod perché una volta inizialmente quando entrò la norma di flight e faceva registrare tutti i droni non so se te lo ricordi simone sì 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 e faceva apposta voleva 6 euro a drone ci vedo eh ci vedo sì sì all'inizio noi all'anno no all'inizio era così ci vedono però la norma poi ha sempre previsto fin dall'inizio che si registrava l'operatore noi droni e e questo significa io mi registro un operatore mi dai un qr code che so questi rosini qui eccoli qui sono il qr code io mi sono stampa e via quando volo qualche due mi ce l'attacco io c'ho c'è avrò 30 droni voglio di che non esiste no per cui e poi tra l'altro loro si fanno pagare 6 euro l'anno cosa fuori di fuori logica che paghi una volta c'è un codice operatore e mi è quello ma dice ma se va all'estero si va bene ma non per 6 euro per il principio no per certo c'è notizie bestiali dice guardare il mondo dall'alto come degli uccelli e descrivere le emozioni eppure è vero perché io guarda sono andato a volare ora non voglio dove si fa l'assicurazione ci sono vari siti online non le facciamo nomi però andate a vedere assicurazione droni su google e vi si apre un mondo ci sono tante assicurazioni online che vanno dai 19 euro e 90 fino ai 29 euro e 90 si dipende io ho volato non dico il posto perché magari poi se lo vuole dire lo dice il big vicino una fortezza no e quando io ho conosciuto simone ho fatto questo primo volo mamma mia che emozione cioè quando ero lì col mio mavic treccine era visto i primi giorni che ce l'avevo no e ho volato ho volato con col mavic treccine e allora lì ho capito lì ho capito che veramente se si riesce a valorizzare il nostro territorio visto dall'alto ne ne beneficiamo tutti le beneficia ne beneficia la struttura d'accoglienza il ristorante il bnb la trattoria e il benzinaio cioè capito cioè perché comunque noi noi io mi ci metto nel mezzo ma il professionista via big che cioè noi facciamo dei voli che mamma mia cioè quello che ha fatto dalla torre di san galgano è bellissimo ma se per caso per sbaglio voli dove non puoi volare e succede qualcosa che casca è qui è un problema per la sicurezza allora innanzitutto diciamo la cosa se uno prende un drone dgi che sono questi si diceva c'hanno le geo zone registrate e non ti fa nemmeno decollare per cui si taglia testa al toro non decolli perché ci sono delle zone dove è vietato e il drone non decolla un esempio se io vo a a firenzi e a peretola che c'è all'aeroporto e voglio decollare con il mini 3 pro non decollo se non essendo autorizzato esempio io sono stato a siena ho dovuto sbloccare la zona prima la geo zona online da fare sul sito dgi dove gli dai tutti i dati dell'autorizzazione che hai per volare gli dai dati tua del drone e te lo sbloccano e quando arrivi lì il drone di holla cosa non succede se non c'è l'autorizzazione non ti di holla perché c'è un carcere per esempio e questo è sempre poi ci sono delle zone rosse dove comunque a volte di holla è successo un fatto l'anno scorso eravamo a roma a piazza venezia davanti all'altare della patria la mattina alle 6 con tutti i permessi prefettura sono stati da rabinieri si è fatto vedere tutto avevamo un avatar 2 mavi 3 mini un mini 4 pro non ce n'è stato uno e ha decollato ma perché in quel momento c'è due 4 5 giorni prima avevano cambiato la procedura che doveva essere fatta direttamente dal sito con il computer non quel telefono e ci frego tutti per fortuna per fortuna uno era con noi aveva un mini 2 un mini 2 io avevo un vecchio vecchio telefono android abbiamo installato l'applicazione dj fri più vecchia e ci ha decollato si è fatto le riprese in piazza di spagna e piazza venezia tutto il mini 2 per dire no certo antonio tolone dice buonasera io devo comprare il mio primo drone e pensavo al poter potenzi kato ma che ne dite antonio guarda guarda il cerce il grande guarda il cielo guarda che c'è c'è il grande valterone a valterone buonasera buonasera ma che è sweat italy no no non ho mai avuto il piacere di parlare di parlare con lui però buonasera qualche poi c'è anche c'è anche raffaello tutto sui droni by raffaello gruppo dei dronisti di roma niente io nel canale so se qualcuno può venire a trovarmi biganet sul tubo sul tubo c'ho dei video sul potenzi che che ha fa dei video fantastici sono come ho detto prima qualche problemino lato connettività anche se sono migliorati ora però secondo me un bel drone perché conducento mi pare 60 euro si prende la versione non non la versione quella senza kimball quella o il kimball perché sennò è un po peggio però se dove interessanti walter se ne va a letto va a mettere a letto il piccolo ciao allora mi salutami la svezia o a inizio giugno se sei ancora lì sono a malmo vai allora scrivo vai vai allora io intanto l'ho seguito insomma allora ora c'è è arrivato che mi sa che sul canale l'ha già detto sta arrivando avata 2 avata ma io l'ho detto ma l'ha detto troppi l'ha già dell'anno già detto troppi sta arrivando sto avata 2 e secondo te e io ti dico poi la mia abata 1 non è stato aggiornato con il m tom apposta oppure oppure c'è qualche altra cosa dietro l'ho fatto che l'ho visto l'ho visto ciao a te ciao notte ci sente su whatsapp e niente che ti devo di nel senso lì non è lì non è stato più che m tom perché quello è un drone che pesa più di 249 grammi per cui doveva eventualmente essere inserito doveva essere marcato la retromarcatura ok non è stato fatto però è purtroppo con i droni fpv è un po vita sempre più difficile purtroppo se tu dovessi consigliare aspetteresti a valutare l'acquisto di un sì perché sembra e fra tre mesi ne sca la versione pro che sia parecchio meglio letto quindi aspettiamo allora senti io direi che per far sì che te mi insegni per far sì che questa live sia fruibile anche postuma nel senso montata su youtube l'ho detta ormai e poi viene no alla fine viene ditta sul tubo io direi che magari possiamo anche eventualmente farne un'altra per vedere un attimino se ci sono altre altre domande altre perché queste sono un po le mie prime interviste simone quindi stiamo 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 sto portando avanti questo format eh che ti ricordi io lo facevo già all'epoca del del covid con le dirette di bob gas e eh io direi simo se vuoi aggiungere qualcosa per la quanto riguarda te il tuo impegno intanto facciamo una cosa ti faccio faccio una foto e la si pubblica su aspetta diciamo così meno si vede anche il mio sei bob ci siamo me lo condivido su facebook chiudi con qualcosa che poi faccio i saluti finali ma io chiudo dicendo che il mondo dei droni visto si è parlato dei droni è un mondo a me piace tantissimo io se diciamo questo se volete venire in cui tu a trovarmi biganet mi trovate e soprattutto e bob lo sa mi diverto scazzo rido e il mio il mio fine è quella di divertirmi perché per me cari sub è un divertimento mi piace montavideo mi piace porto tecnologia porto orologi porto tutte le cazzate in mondo le porto e mi diverto soprattutto mi diverto perché se finisce il divertimento per me finisce la rete youtube e tutto il resto lo dico sempre no se uno vede il mio canale i più quando sono a giro è bellino no perché magari qualunque posto vado trovo persone mi fermano mi salutano papi che ci si fa una foto insieme no cioè le volte mi sembrava quasi di perché poi dopo dici no qualcosa di bellino alla fine ha fatto no a livello social certo e poi alla fine è questo e tutti perché io quando va corsi in presenza almeno uno mese si fanno si fanno si fanno più divertenti più seri perdite io a 19 di aprile sono a fare un corso su droni al collegio degli ingegneri dei geometri degli architetti di siena per cui si sta parlando roba più seria ovviamente però io quando vado a fare questi corsi su quello che mi vedano a video e tutti mi diano sei meglio del vivo e e te che m'ho conosciuto la vista non sono così ma certo no no ma per cui ecco io posso di questo se uno li garba qualcosa è a passione per qualcosa e decide di condividere lo faccio un passione perché se non le fa per un secondo fine finisce notizie bestiali che io ribadisco che la dovrò intervistare intervistare dice bellissima chiacchierata sui droni lavorando in tv perché hanno inviata mediaset so che non se ne potrebbe più fare a meno grazie grazie a ragione ragione grazie a te c'è tempo per un'altra domanda si dottor stefano c'è qualcuno dice abdul buonasera papà non lo so io non lo so io ti ringrazio ma non lo so non lo so che ruolo avranno secondo te in futuro i droni in ambito diciamo guarda secondo me si parla sempre di di più di questi droni in ambito militare il mondo dei droni rispetto a quando si raccontava prima l'ho iniziato io non iniziato il canale inizia con questi due rettini a portare nel canale era tutto un divertimento ora è un mondo diventato di imbruttiti io lo dico sempre un mondo di brutti certe tristezze sotto i tristi no ma che cazzo triste ma arriviamo io cioè uno dei motivi e anche tutta questa normativa i droni militari purtroppo è la verità no e poi tutti con queste leggi mommino e qui un volo di buon volo mamma ma c'è il venturacci massimiliano venturacci ti invito a guardare il suo canale che che c'hai i figlioli in ruanda o bobe o massimiliano mi sa di sì perché tanto va sempre a finire a tarallucci e vino allora io intanto infatti sì è vero mettono tutte ste difficoltà ma perché è diventato se non allora da una parte e forse boh non lo so forse simone è d'accordo o meno da una parte con i cervelli che ci sono in giro oggi è bene che ci siano queste regole perché se no te le vedi in fila in casa te i droni cioè forse ci siamo capiti cioè la gente è folle davvero è vero questo super strada ci devono mangiare allora simo io davvero ti ringrazio tantissimo per la disponibilità le naturalmente la tua simpatia andate a vedere il suo canale sul tubo lo sai perché fu così perché ho specchiato l'immagine e non capisco dove e poi guardate anche il mio certo tenti si vede bene era un genna sul cima è andate sul cane rosso buonanotte a tutti è stato veramente un piacere grazie simo e ci sentiamo per la prossima per la bassa ciao ciao a tutti